3 2 1 go c'è ragazzi sempre io il boss di monopattini guardate cosa ho trovato pazzesco forse l'unico in italia poi fatemi sapere nei commenti se nel caso passate per questo paese adesso vi faccio vedere tutto poi vi ricordo sempre di iscrivervi sempre seguenti canali mondo elettrico italia di facebook canale youtube accendete la campanella se non avete ancora fatto che ne vedete sempre delle belle e poi novità assoluta canale instagram il boss dei monopattini ebbene sì non ci volevo credere ma ci ho creduto se passate ovviamente in provincia di milano da trezzano sul naviglio ok e vi capita di praticamente arrivare a secco di corrente con il monopattino con la bici elettrica o vi si buca una gomma o quello che cacchio volete bene guardate cosa ho trovato nei commenti mi fate sapere se ne avete trovati qualcuno in più ma è il primo che vedo guardate bene allora se vi capita se vi capita di rimanere a secco di energia con il vostro monopattino guardate colonnina tattica ci sono le chiavi per aggiustare anche i copertoni per cambiare la camera d'aria ma la figata è che vi potete caricare il monopattino guardate guardate riprese di corrente guardate bene poi ovviamente va ci sono i test di cazzo di vandali di merda che come potete vedere se sono rubate le chiavi sti pezzenti ok però comunque a parte quello guardate bene vedete vi potete caricare il monopattino quindi tanta roba ok bene se a milano facessero queste cose qui anche a pagamento non sarebbe male ok bella lì ragazzi a trezzano sul naviglio provincia di milano c'è questa colonnina che vi permette di ricaricare monopattino bici elettrica in più fare anche assistenza o alla bici elettrica o alla bici normale e così via e bike eccetera eccetera bella lì ciao ragazzi e ci vediamo presto colonnina elettrica la prima che vedo ciao 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 ciao